How can very rational people believe down-to-earth people? Well, I think everybody is down-to-earth. I think we all have to remember it's your free will, your choice. Dobbiamo sempre ricordarci che c'è il libero arbitrio, il libero arbitrio è la nostra libera scelta. E sono sicura che i nostri angeli custodi danno la prova della loro esistenza in ogni momento attraverso la nostra vita, tutta la nostra vita. E che a volte crediamo nelle cose materiali molto di più rispetto a quello che crederemmo in una vita, nelle cose spirituali. E siamo tutti al momento in cerca di noi stessi. ci chiediamo chi siamo. O a volte lo chiamiamo il nostro bambino, il nostro io interiore fanciullo, il fanciullino, diciamo. Ma in realtà è la parte spirituale di noi, la nostra anima. non siamo solamente esseri umani, ma siamo anche esseri spirituali nello stesso momento. E' per questo che vi chiedo sempre di avere la consapevolezza dell'esistenza della vostra anima. per fare sì che questa parte, sorry, that part, of intertwining. Ah, sì, perché questa parte possa interagire, queste due parti possono interagire. It's part of evolution. Perché è parte dell'evoluzione. And all this I can say is God is real. e tutto ciò che io posso dire è Dio è reale. Your soul is real. La vostra anima è reale. Your guardian angel is real. Il vostro angelo custode è reale. And I can't make you believe it's actually up to you. E non posso farvi credere, dipende solamente da voi. What would I say? Cosa posso dire? Science now is in search of what we're talking about today. I have spoken to many of them. And they have so many questions to ask, just like you. So I don't think I can answer that question anymore.